Sì, sono fatte delle delibere della Giunta per poter accedere a finanziamenti pubblici che sono quelli per continuare servizi di assistenza a persone bisognose, persone in difficoltà. Abbiamo una delibere fatta per i minori non accompagnati perché possono essere attraverso i nostri servizi sociali aiutati. Poi un'altra è per le donne che hanno subito gravi abusi sessuali e un'altra è per prostitute che in qualche modo vengono accompagnate o vengono seguite nel loro progetto di allontanarsi da questo tunnel. È chiaro che questo vuole essere una dimostrazione di quanto crediamo nelle politiche sociali. È evidente che dall'altra parte saremmo molto duri. Per la stessa ragione con cui dobbiamo assistere chi ha difficoltà dobbiamo anche andare a reprimere e contrastare i fenomeni di delinquenza che in questa città evidentemente non mancano ma che vogliamo spegnere prima che possano peggiorare. Bisogna insistere, bisogna continuare, bisogna forzare. Un'altra delibera che abbiamo fatto oggi è stata quella di aggiungere, assumere 20 persone. Questo è stato un assesto di bilancio. Abbiamo messo le risorse per poter assumere 20 vigili della Polizia Provinciale che dopo possano passare nelle nostre pattuglie anche d'acqua a Venezia. Con la stessa variazione del bilancio abbiamo deciso di assumere, premio concorso ovviamente, tra settembre e ottobre, una cinquantina di giovani vigili urbani, Polizia Municipale. Diciamo che ci sono alcuni luoghi in cui ti aspetti una maggior precisione. Se noi invece facciamo diventare la città di Venezia una città macchietta o comunque preda delle cose più incredibili, degli arbusti che crescono, delle cacchie di cani, delle situazioni più incredibili, che si troveranno in tutte le città del mondo. Ci facciamo pagine interne del giornale, poi non ci dobbiamo stupire se il sindaco di Barcellona dice che non voglio diventare come Venezia. Non è certo colpa della stampa, ci mancherebbe altro. La città ha problemi che sono non controllati da troppi anni. Però magari a tutti facciamo anche un appello. Siccome i giornali si vendono qui, ma poi vengono letti in tutto il mondo, cerchiamo anche di fare attenzione a quello che si dice. Ognuno si assume le sue responsabilità, io lo dico con molta serenità. Parlo dei professionisti, siccome si parla del futuro dei bambini e dei figli, la storia poi si scriverà col volto guardato all'indietro.